Albertini, Rui Costa, alza il pallone, quasi mette fuori tempo Montero, Cavi Moreno bene, Shevchenko nello spazio, va via Shevchenko, accelera, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusione, André! Shevchenko! Un gol strepitoso, strepitoso! Un gol straordinario, incredibile, ha saltato tre giocatori. Eccolo qui, Shevchenko va via a tutti, fai guarda Buffon, è fuori, è impossibile metterla girato così. E la incrocia in pallone. Grazie per la visione!